Brillante operazione dei carabinieri di Ilarino che ha portato a sei misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata ai furti. Due arresti in carcere e quattro ai domiciliari e questo l'esito di un'operazione che ha smantellato una banda dedita a furti in aziende agricole e commerciali del Basso Molise. Si tratta di sei persone già note alle forze dell'ordine, cinque residenti a Foggia e uno a Pescara. L'indagine è partita da una denuncia di un cittadino che aveva riconosciuto online la propria bicicletta rubata. Un elemento che ha permesso agli investigatori di risalire agli autori dei furti. Secondo la procura della Repubblica di Ilarino, l'organizzazione si muoveva con una metodologia ben precisa, strutturata in sopralluoghi accurati e una pianificazione attenta prima di ogni furto. La banda nel giro di un anno ha accumulato un ingente bottino di oltre mezzo milione di euro tra genere alimentari, alcolici e mezzi agricoli e proprio la presenza di numerose bottiglie di champagne rubate ha dato il nome all'operazione. I carabinieri della compagnia di Ilarino hanno sequestrato radiotrasmittenti, passamontagne e attrezzi da scasso. Il procuratore della Repubblica di Ilarino, Elvira Antonelli, ha sottolineato l'importanza dell'operazione. L'attività investigativa, spiegato in una nota a Antonelli, si inserisce nel contesto delle linee di intervento di questa procura per contrastare il fenomeno dei furti e dei reati predatori in genere. Le sei persone arrestate durante l'interrogatorio di garanzia hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.